aspettati, perché dopo aver irradiato il fascio energetico, si verificò un terremoto di magnitudo 4 e 4,5 della scala Richter. Eravamo stupefatti dall'apparente conseguenzialità dei due eventi. Eravamo in una zona fortemente soggetta ai terremoti, situata nei pressi dell'asse di faglia del Pacifico nord-occidentale. Era bastato irradiare le onde ELF per scatenare un terremoto. Il dottor Egniuk ci mostra come può aver generato il terremoto. Questo è il modello in scala della regione dell'Oregon in cui effettuammo la tomografia terrestre nel 1987. Questo strato rappresenta l'asse di faglia sotterraneo, il sasso, l'energia potenziale sviluppata dal terreno in seguito a uno stress tettonico. Ora irradieremo delle onde ELF dimostrando che sono davvero in grado di innescare un terremoto. L'esperimento che stiamo per vedere è realmente particolare. Potrebbe addirittura dimostrarci che queste particolari onde a bassa frequenza sarebbero in grado di generare un terremoto a comando. Davvero inquietante. Attivando gli altoparlanti comincia l'emissione di onde ELF. Vengono rilevate impercettibili di vibrazione nella sabbia e pochi secondi dopo il sasso che rappresenta la linea di faglia cambia posizione. Come avete visto in pochi secondi la frequenza di risonanza generata dal trasmettitore ha innescato l'energia potenziale del sasso. Su scala reale la vibrazione verrebbe avvertita per centinaia di chilometri. Questi presupposti sono già presenti nel terreno. Serve solo l'energia necessaria a renderli effettivi. Per i teorici della cospirazione l'ARP sarebbe responsabile dei terremoti avvenuti negli ultimi tre anni nei territori nemici tra cui l'Iran, la Cina e l'Afghanistan. Ma il sorprendente potenziale dell'ARP non si limita a questo. Alcuni sostengono che sia collegato a uno strano fenomeno che si sta materializzando nell'atmosfera terrestre. sempre più spesso negli ultimi anni strane formazioni nuvolose hanno fatto la loro comparsa nei cieli di tutto il mondo. Molti in Nord America hanno notato questi pennacchi attraversare il cielo creando reticolati, strisce parallele e le ormai familiari X. E in tanti si sono chiesti che cosa fossero queste scie. Pur basandosi su una speculazione, alcuni studiosi hanno ipotizzato che le strane formazioni siano ascrivibili a una guerra climatica. Inizialmente si presentano come le scie dei jet. Ma questi pennacchi restano nel cielo per molte ore, persino per un giorno intero, formando una nube artificiale. Alcuni ricercatori le hanno definite scie chimiche. Un aereo che vola e lascia una scia. Un'immagine conosciuta alla quale non facciamo più caso. Da alcuni anni i nostri cieli sono caratterizzati da queste lunghe scie bianche. Si chiamano scie di condensazione. Alcune di queste però sono scie sospette. Sono molto lunghe e persistenti, spesso si estendono da orizzonte a orizzonte e permangono nell'aria per molte ore. I ricercatori affermano che in alcuni giorni ne sono state contate nello stesso tratto di cielo diverse decine e che spesso assumono la forma di veri e propri reticoli. Queste scie sarebbero state avvistate anche fuori dalle rotte civili, alcune in spazi aerei proibiti, anche a quote inferiori al traffico aereo standard. Ma quali sono le condizioni in cui un aereo rilascia una scia di condensazione? Ogni motore a getto, quelli degli aeroplani di linea, immette nell'atmosfera diversi chilogrammi di acqua ogni minuto di navigazione e quest'acqua si condensa sulle particelle ionizzate che provengono dai motori stessi. E in particolari condizioni appunto di temperatura, pressione e umidità si ha il congelamento di quest'umidità che appunto appare bianca. Ogni aeroplano che si trova in quelle condizioni produce scie di condensazione e a me stesso più volte è capitato di vederne in virata quando guardavo dietro. Un aereo lascia una scia quando si verificano queste tre condizioni. Vola sopra gli 8000 metri, l'umidità dell'aria superiore al 70% e temperatura dell'aria inferiore ai 40 gradi centigradi sotto lo zero. C'è però chi dice di aver visto queste scie anche emesse da aerei che volavano molto più in basso. C'è chi sostiene addirittura che queste siano delle scie causate da esperimenti militari con quali fini. Insomma cerchiamo di capire cosa sono le scie e chi. Ricercatori e chimici indipendenti sostengono che le scie chimiche contengano sostanze quali sali di bario, ossido di alluminio, torio e altri metalli pesanti. Nessun ente governativo civile o militare ha mai confermato l'esistenza delle chemtrails, dichiarando l'eventuale scopo e la durata di tali esperimenti. Per questo molti ricercatori hanno iniziato a indagare e a raccogliere indizi e informazioni utili per comprendere questo fenomeno. Secondo queste teorie indipendenti le scie sarebbero frutto di un erroramento fatto ad alta quota da parti di aerei, probabilmente militari. Ma a quale scopo? La storia delle scie chimiche è cominciata pochi anni fa. Vediamo come. La prima volta che il termine chemtrails è apparso su un documento ufficiale è stato nel 2001, nel programma di disarmo presentato al Senato americano con nome di Space Preservation Act 2001. Le chemtrails vengono nominate nella sezione riguardante le armi esotiche, ma questo documento non viene approvato. L'anno successivo viene approvato lo Space Preservation Act 2002. Il capitolo riguardante le exotic weapons, e quindi la voce sulle chemtrails, non compare più. In realtà, già nel decennio precedente, alcuni osservatori americani avevano sollevato il problema delle operazioni di aerosol, un caso che si è guadagnato spazio anche nelle trasmissioni più importanti degli Stati Uniti e nei telegiornali di tutto il mondo. Ma della questione delle scie chimiche non se ne sono occupate solamente degli appassionati o persone che scrivono su internet. Ci sono state delle interrogazioni parlamentari a livello europeo. Se ne è parlato anche in Italia, ma non vogliamo entrare in questo mondo né in questi particolari. Vogliamo solo sottolineare che il fatto è più serio di quanto possa sembrare ad un primo esame. Le scie degli aerei che si osservavano nei decenni scorsi si dissolvevano in pochi minuti ed erano corte e strette. Le scie di oggi, invece, sono molto diverse. Larghe, persistenti anche per ore, spesso si espandono trasformandosi in uno strato biancastro. L'aumento vertiginoso del traffico aereo ha ovviamente riempito il cielo di strisce bianche come mai negli anni passati. Ma le scie presenti nel cielo sono talmente diverse le une dalle altre che è possibile suddividerle per tipologia. Lunghe, corte, che si espandono, che non si espandono, a trattini, a fusillo, a filamenti, poco persistenti, molto persistenti. Alcune scie si dissolvono in alcuni tratti ma permangono in altri. Altre hanno un aspetto fibroso, mentre altre ancora sembra che contengano al loro interno scie di consistenza diversa. Inoltre, gli strati nuvolosi generati da queste scie assumono la forma di nuvole pettinate oppure formano degli aloni colorati dalle forme indeterminate. Le scie che vediamo nei nostri cieli hanno delle forme strane, diverse. Non farebbero pensare a delle scie di condensazione. Bene, ma per capirne di più siamo venuti qua, nell'aeroporto dell'aeronautica militare a pratica di mare, per chiedere a degli esperti cosa ne pensano. D'estate è più difficile che esistano scie persistenti a quote più basse, perché in quelle condizioni di temperatura e di umidità la scia si forma e si dissolve immediatamente. D'inverno le scie tendono a perdurare di più perché essendo generalmente l'atmosfera più fredda, le condizioni di condensazione sono più frequenti. Qui si vede la genesi di una scia, la sua creazione. Vicino ai motori ancora i gas sono sufficientemente caldi da non avere la condensazione. Successivamente avviene la condensazione e insieme alla condensazione c'è l'espansione per diffusione e per turbolenza. Infatti la scia da lineare diventa gassosa. Ecco, in questa immagine ripresa dallo shuttle si vedono alcune scie stratosferiche, e cioè che sono state generate da velivoli che volavano a quote al di sopra dei 12 km di altezza, dove i venti sono molto più dolci, sono molto più laminari, sono molto meno turbolenti e quindi le scie perdurano più a lungo, tanto che appunto si possono vedere dallo spazio. Le scie quindi potrebbero essere causate o meno da eventi atmosferici, ma secondo alcuni invece sarebbero frutto di esperimenti militari, esperimenti di ultima generazione in grado di modificare il clima per fini bellici. Ma se così fosse ed è solo un'ipotesi, chi li realizza e soprattutto perché?